Cosa c'è scritto qui? Che c'è scritto? Partiamo da quella più corta J'adore Forteventura Je n'aime l'aspa de revenir a chaque fois Je la dico differente au monde Adoro Forteventura Non smetto di tornare qua e ogni volta la scopro diversa E qua? Ascoltate il silenzio sul rumore del vento niente d'altro Dobbiamo essere soddisfatti ci deve bastare quello che ci offre la natura attraverso e con i suoi elementi imparare ad ascoltare e a capire a prendre au voir imparare a vedere tutto passa attraverso i nostri sensi prendere il tempo e assaporare le cose semplici qualcosa di simile Grazie Signora Natura Ciao Ciao Wow Wow! Apprende a écouter, entendre, apprendre a voir. Chérie, chérie, a chanter. Prendre le temple. Voi savoir che queste donne ressemblent. Grazie per l'annunciazione.